La squadra nazionale della Danimarca si è giudicata ieri a Carboni alla prima edizione dell'International Gold Bowl Tournament. In finale, sovvertendo i pronostici della vigilia, la squadra danese si è imposta sulla squadra nazionale russa con il punteggio di 11 a 10, grazie ad una grande rimonta dopo lo 0 a 4 finale. Al terzo posto si è classificata la squadra nazionale italiana che ha superato 12 a 8 quella francese. Al quinto posto la squadra nazionale della Romania. Al termine della finale, sul parquet della palestra del liceo Gramsci Amaldi, si è svolta la cerimonia di premazione alla presenza, tra gli altri, dei dirigenti del liceo Gramsci Amaldi e dell'istituto tecnico Angioi che ha ospitato gli allenamenti delle squadre del presidente della federazione FISPIC, Alessandro Di Girolamo, del segretario particolare dell'assessorato regionale dello sport, pubblica istruzione e cultura, Alberto Zonchello. Il torneo è stato organizzato dall'SDMGM Sport di Carbonia con il contributo degli assessorati del turismo e dello sport della regione Sardegna e la preziosa collaborazione della polisportiva Girasole.